Dobberden e cestita Baba Marta. Adesso vado via. Bene, buongiorno a tutti. E naturalmente, come previsto, io devo innanzitutto ringraziare. Perché se c'è una sala così piena, c'è qualcuno sempre da ringraziare in tutto questo. E in primo luogo è naturalmente Confindustria che ha organizzato questo bellissimo evento. Naturalmente tutto quello che dirò lo dirò anche a nome dell'Istituto degli Anicoltura che ha collaborato a questa organizzazione. Se non c'è oggi la dottoressa Peddi è perché con la presidenza è occupata altrove. Quindi farò anche le sue vesci, diciamo, in questo senso. Qual è l'idea di questa iniziativa? Si pone in un contesto, naturalmente. Ed il contesto è quella della seconda giornata del design italiano. In questo momento, in tutto il mondo, ci sono iniziative che vogliono sottolineare l'importanza del design italiano. E a queste iniziative partecipano persone che hanno un ruolo. Noi siamo particolarmente fortunati e privilegiati. Poi ritornerò su questo perché abbiamo con noi l'architetto Massimiliano Fuxas, oltre a tanti altri graditi ospiti, che però è un punto di riferimento. Ma questo ci vorrei tornare un attimo dopo. Quindi in questo momento noi vogliamo sottolineare questo aspetto legato al design italiano. Io credo che l'interpretazione che è stata data qui di questa giornata è particolarmente favorevole, particolarmente positiva. Quindi a Sofia questa giornata assume una connotazione particolare. E particolare è il posto in cui tutto questo è stato organizzato. Il fatto di fare, di celebrare, celebrare è una brutta parola, di parlare di design in un palazzo, in una torre, citando un termine che è stato usato stamattina anche nell'intervista di BNT con l'architetto Fuxas. In una torre particolarmente rilevante per l'innovazione, per il disegno. Qui poi sentiremo l'architetto Flaccomi naturalmente che è il responsabile di questo, non l'unico ma sicuramente il principale. Che si pone in un contesto anche urbano particolare, in un luogo che direi è particolarmente rilevante e azzeccato. Anche se io non sono architetto non potrei dirlo, ma mi sento di farlo come ambasciatore per porre questa particolarità. Ecco, secondo me è, come dicono gli inglesi, walk the talk. Parlare con cose concrete. Cioè noi parliamo in un luogo in cui abbiamo dimostrato che il design italiano può dare il suo contributo a migliorare, in questo caso, quello che è l'arredo urbano, come viene chiamato. Perché è importante il design? Il design è importante perché costituisce un elemento di identità e quindi tramite il design si possono passare tutta una serie di messaggi. Il design esprime delle tradizioni culturali, non c'è design senza tradizione culturale. Esprime delle capacità di manifattura e qui c'è tutto l'aspetto di business, di industria. Esprime uno spirito innovativo, perché non c'è design senza nuove idee, senza qualcosa che si evolva. E questo ci fa capire perché il design è qualcosa che viene da lontano e noi italiani lo possiamo dire. Non è che l'abbiamo inventato, non lo so, 50 o 100 anni fa. Il Colosseo, tanto per dire una cosa che nessuno di voi conosce, è sicuramente un elemento di design. È di oltre 2.000 anni fa, però sicuramente lo è. Così come si è rinnovato nel tempo. Se io penso alla cupola del Brunelleschi a Firenze, penso a un elemento di design. Anche perché ancora oggi viene usato come brand. Non è un caso tutto questo. Quindi c'è una storia in tutto questo, ma c'è un'innovazione. Io penso che l'Italia in questo ha una sua voce, che viene da tutti riconosciuta, e che si continua a rinnovare. Quindi si rinnova il genio, si rinnova la creatività, che ci caratterizza e che ci aiuta molto naturalmente. Ma come noi sappiamo, tutto quello che è conquistato, che si accumula come prestigio nel passato, non può essere lasciato fermo. Perché domani può finire. Noi abbiamo dimostrato sempre di saper reinterpretare tutto questo, anche grazie a grandi personalità, grandi geni e grandi creatività. E oggi appunto ne abbiamo un esempio qui, con il relatore d'eccezione, che è Massiliano Fuxas. Quindi abbiamo questa capacità di presentare cose nuove e di definirle come italiane. Ora, se io parlo di Fuxas, in realtà faccio un po' un'estensione di italiano, perché lui è un cittadino del mondo, non solo perché viaggia tantissimo, ma soprattutto perché ha realizzato opere che sono apprezzate e sono punti di riferimento in non so in quanti paesi, non li ho contati. Ma già se avete visto una parte, neanche lui, ma un giorno faranno un catalogo sicuramente. Quindi è una personalità che appartiene al mondo, che noi come Italia, perché il passaporto è italiano e quindi questo lo possiamo dire, oltre che tutta la sua natura e dove abita, e questo mi sembra un'ottima informazione che naturalmente non posso che apprezzare. Quindi è italiano, ma è prestato al mondo. E quindi secondo me in questo contesto non poteva esserci ospite migliore e sicuramente noi siamo privilegiati nell'averlo qui. Poi si parla di sostenibilità oggi, il tema è anche quella di sostenibilità. Penso che pochi meglio di lui possono rappresentare in questo senso questa unione fra design e sostenibilità, che non è affatto niente di scontato, magari ce lo dirà lui, non è che viene di per sé, anzi c'è dietro tutto un lavoro per avere il connubio di questi due elementi. D'altra parte la sostenibilità rappresenta anche un anello di congiunzione. È un anello di congiunzione, la sfida è quella, fra l'arte e l'industria. Allora se noi ci mettiamo anche la sostenibilità è quello che può essere il collante, quello che può fare la differenza. Quindi è un elemento che anche questo si sostanzia, non è solo un concetto astratto, è qualcosa che deve avere una sostanza importante. E non è un caso che la triennale di quest'anno, la triennale di Milano di quest'anno, abbia come tema un tema legato alla sostenibilità, perché il tema, scusate se lo dico in inglese, ma non me lo sono introdotto in italiano, è Broken Nature Design Takes a Human Survival. Quindi c'è veramente un ruolo del design per assicurare un'umanità che sia più umana, se lo posso dire, che possa sopravvivere in condizioni più umane. Io ho preso più del tempo che naturalmente mi hanno dato, ma il rischio è sempre questo, soprattutto con un tema e con un parterre di questo tipo. Io non posso che essere veramente molto lieto di questa operazione che è stata fatta proprio collaborando tutti insieme, quello che si chiama di Sistema Italia, che in questo caso si concretizza in un'azione molto utile. Sono sicuro che questo sarà l'inizio di tante altre possibilità. Comunque è un importante momento per scambiare idee e per riflettere, perché sicuramente noi come Italia possiamo dare un grande contributo, penso che continuino a darlo, le nostre industrie, le nostre attività qui, e la presenza anche delle persone che poi mi seguiranno sono una testimonianza di questo. Vi ringrazio molto e anch'io godrò di questa bellissima giornata. Grazie ancora.